Nuova lista di voli dell'aeroporto di Trapani-Birgi da e per Roma, Fiumicino, Bologna, Pisa e Verona. Ad operarli sarà Peoplefly, società che ha sede nell'isola Sarda. Sul sito peoplefly.it è stato già inserito l'intero programma di prenotazioni di tutti i voli. Roma-Fiumicino a partire dal 3 giugno avrà un collegamento giornaliero con partenza da Trapani alle ore 6.30 e da Roma alle ore 8.10. Per Bologna invece dal 5 giugno si volerà nelle giornate di martedì, giovedì da Trapani alle 9.50 e da Bologna alle 18.50 e domenica da Trapani alle 16.10 e da Bologna alle 20.50. Pisa sarà collegata dal 2 giugno nelle giornate di mercoledì e sabato con partenza alle ore 9.50 da Trapani e 15.45 da Pisa. Verona sarà invece collegata dal 4 giugno con Trapani lunedì e il venerdì, partenza alle 9.50 e da Verona alle 12.00. Previsto anche un collegamento solo domenicale dal 16 giugno con Vilnius in Lituania. Da Trapani si parte alle 9.50 e da Vilnius alle 14.50. I prezzi del biglietto dei voli nazionali vanno da 66 euro a 86 con un'oscillazione di 20 euro, mentre per Vilnius il prezzo si aggirerebbe intorno ai 150 euro.